Sono state potenziate a Caltanissetta le misure di sicurezza per tutelare il magistrato della direzione distrattuale antimafia Gabriele Paci. Davanti alla sua abitazione è stato predisposto il divieto di sosta e la scorta potenziata. I figli dovranno andare a scuola scortati e se dovessero passeggiare o giocare fuori casa saranno guardati a vista. Scorta anche per la madre e per il padre, un'intera famiglia nel mirino della mafia. Proprio per questo motivo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica preseduto dal prefetto di Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta ha disposto le misure di sicurezza. Secondo quanto rivelato da un collaboratore di giustizia il giudice era nel mirino della mafia, i boss erano pronti ad ucciderlo e a sterminare la sua famiglia. Il progetto di Cosa Nostra, secondo quanto riferito dal pentito palermitano Massimiliano Mercurio del quartiere Brancaccio, era pronto. Dal carcere era partito l'ordine di morte. Proprio ieri il procuratore capo del Tribunale di Caltanissetta, Sergio Lari, ha confermato al giornale di Sicilia la notizia. Il collaboratore ha chiesto di parlare con la nostra procura, ha detto Lari. Lo abbiamo ascoltato e subito dopo abbiamo trasmesso gli atti con la sua dichiarazione alla procura di Catania. Certamente, afferma, è un fatto inquietante e che abbiamo da subito ritenuto ad altissimo rischio. Secondo Massimiliano Mercurio, ed in merito anche alle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia ed analizzando alcune intercettazioni ambientali, a voler uccidere il pubblico ministero, sarebbe Roberto Di Stefano, 48 anni, di Gela, della cosca Rinzivillo. Fu proprio Pace a scoprire che Di Stefano era un falso pentito e secondo l'accusa, approfittando del suo ruolo di collaboratore, aveva riorganizzato la cosca ed era pronto a scatenare una guerra di mafia. E Pace lo ve già restare nel giugno scorso. Le successive indagini, immediatamente avviate da magistrati catanesi, che hanno competenza su inchieste che riguardano magistrati nisseni, hanno trovato i riscontri alle dichiarazioni del pentito di Brancaccio. Gabriele Pace è a Caltanissetta da quasi cinque anni, ha lavorato a Palermo e poi a Perugia. Proprio a Caltanissetta si è occupato della mafia giulese ed è stato pubblico ministero nel processo Borsellino-Quater per la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il 19 luglio del 1992 Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta.